Alcuni tra di voi forse hanno sentito parlare di Robert Williams Service. Service è stato un autore, uno scrittore e poeta di origini scozzese, che è vissuto a cavallo degli anni 1800-1900. Ha viaggiato molto per il mondo e ha passato molto tempo nel nord del Canada e nell'America del nord. Ha passato molto tempo e ha scritto molte cose sulla vita al nord. E questo gli ha valso il soprannome di Il Bardo dello Yukon. Ha scritto diverse cose e ha raccontato tra le altre la storia di un cacciatore che si chiamava Salvation Bill. Ha raccontato questa storia in inglese e in versi. Permettete che io ve la racconti in francese e in prosa. Bill è un cacciatore nel nord e in pieno inverno è partito per fare il giro delle sue trappole e vedere cosa aveva preso. Durante il cammino trova a terra un uomo, mezzo morto, di freddo, che stringe a sé la sua Bibbia. È un missionario partito per evangelizzare il grande nord. Così lui prende questo missionario e lo porta nel suo rifugio. Lo cura, lo rimette in sesto, ma... La temperatura e la situazione climatica fanno sì che siano costretti a passare insieme l'inverno nel capanno. Soltanto che questa coabitazione è un po' difficile per Bill perché questo missionario, una volta rimesso in sesto, è preoccupato per la sua anima e lo vuole assolutamente convertire a colpi di testi biblici. Soprattutto vuole convincerlo a non fumare più perché Bill è un fumatore incallito. In effetti ha un blocco di tabacco da cui taglia dei pezzetti, ha una riserva di giornali con i quali rolla le sue sigarette e accende la seguente con il mozzicone dell'ultima. Fuma in continuazione. E il missionario ha permissione di convertire quest'uomo e di riuscire a farlo smettere di fumare. Oh, Bill non ha altro Dio che la signora Nicotina. Quindi le cose sono difficili. Ma un giorno Bill va dietro il suo capanno a cercare la sua riserva di giornali e con sua grande sorpresa scopre che i topi hanno sminuzzato tutti i giornali che aveva messo da parte. È una calamità, è una catastrofe, è un disastro. Rientra nella sua capanna e piange, scalpita, grida, è nervoso, brontola, è furioso, diventa pazzo. Niente fumo, niente carta per fare le sue sigarette, catastrofe. I giorni passano e di giorno in giorno sente che i nervi stanno cominciando a schizzargli fuori da tutti i pori della pelle. Fino al giorno in cui, di colpo, vede nelle mani del missionario il libro. Il libro! Così il lupo selvaggio gli monta dentro e Bill gli dice Dammi una pagina di quel libro! Bill, lui, non ne può più, afferra il suo fucile carico, lo punta sul missionario e dammi una pagina! Il missionario, no! Avrà il mio libro ma prima dovrai uccidermi! Bill capisce di aver perso, getta il fucile ai piedi del missionario, ritorna sul suo letto grugnendo e gli dice Ti conviene nascondere il fucile e anche il tuo libro, cosa che il missionario si prende cura di fare. Bill continua a piangere, grugnire e nervosirsi. Il tempo passa e lui non ne può più. Un giorno si alza, cerca nella credenza, prende una tazza e prepara un veleno mortale. Ed è con la tazza piena che si rivolge al missionario e gli dice Guarda, me ne vado, non ne posso più! Ma tu domanderai a Cristo che cosa avrebbe fatto al tuo posto e alzando la tazza si appresta a bere. Il missionario gli salta addosso, getta via la tazza, rovescia il veleno e... Dai, 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 dai! Può essere... Può essere che abbia fatto un errore. Può essere che abbia fatto un errore. Prendi il mio libro. Prendi. Fuma. Ma... Ma per favore... Leggi ogni pagina prima di fumarla. Eh 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 Allora Bill Comincia a fumare dalla Genesi fino a Giobbe. E fumando si rende conto che i ruoli si sono invertiti perché lui sta molto meglio ma il missionario sul suo letto Brontola Si agita Si indigna Si esaspera Per il sacrilegio rinnovato x volte al giorno. Ma Bill ha notato qualcosa Qualcosa Di bizzarro è cambiato. Ed è che Passando il tempo Legge sempre di più e fuma sempre di meno. Finché arriva il giorno in cui Bill prende quello che resta della Bibbia La restituisce al missionario e gli dice Tieni ecco il tuo libro. D'altronde non è il fumarlo che è terribile. Anzi è un peso sull'anima insopportabile. Ma adesso io sono cristiano Vado a predicare L'Evangelo E se qualcuno Non mi ascolta Gli salto sul petto E gli predico la buona novella. Lui si chiama Salvation Bill Questa storia Ci insegna qualcosa Che abbiamo la tendenza A dimenticare. E' che una vita trasformata Non si costruisce Si riceve Una vita trasformata Non si fabbrica E' ricevuta come un dono E per soddisfare i più ortodossi Vi farò un'illustrazione Più biblica Ricordatevi l'Apostolo Giovanni Se rileggete le prime pagine Del Vangelo Incontrerete l'Apostolo Giovanni Che è chiamato il figlio del tuono Perché ha dei fulmini Che gli escono da tutte e due le orecchie E se una città Non ci riceverà Io farò cadere il fuoco dal cielo Su quella città Giovanni Rileggete il Vangelo E' un uomo che ha un carattere violento Una attitudine combattiva Un temperamento collerico E' irritabile E' vendicativo Porta alla maledicenza Orgoglioso Ambizioso Sono molte cose per un solo personaggio E pertanto E' il discepolo amato L'Apostolo Giovanni Di cui si leggono le pagine Alla fine del Nuovo Testamento Ed è da lui Che abbiamo tratto la lettura iniziale Poco fa Alla fine della sua vita Giovanni è diventato Dolce Pacifico Amabile Incredibile In un commento del Secolo scorso Il libro si intitola Conquistatori di Pace Leggo questo Giorno dopo giorno Il suo cuore Era attratto dal Cristo Fino a che Dimenticò se stesso Nel suo amore Per il suo maestro La potenza La tenerezza La maestà L'umiltà La grandezza D'animo E la pazienza Che osserva Nella vita quotidiana Del figlio di Dio Lo riempivano Di ammirazione Egli abbandonò Il suo temperamento Irritabile E ambizioso Al potere Trasformatore Di Cristo E l'amore divino Operò in lui Una vera Metamorfosi Ah Ecco la chiave Ecco la chiave Tuttavia Quando ci penso Giovanni E Giuda Sono stati Esposti Alla stessa Testimonianza Per la stessa Durata Stavano tutti i giorni L'uno e l'altro Con Gesù Hanno visto Gli stessi miracoli Hanno visto Come Gesù Alleviava Guariva E persino Resuscitava Dei morti Hanno visto La stessa cosa Hanno ascoltato La stessa cosa Sono stati Con lo stesso Gesù L'uno è stato Trasformato Dal suo amore Dalla sua maestà L'altro L'ha rifiutato Stessa testimonianza Ma risultati Così differenti E devo ammettere Che Noi pure Sovente Viviamo In quanto cristiani Un'esperienza Stessa simile A quella del missionario A quella di Bill Un fallimento Nella nostra vita cristiana Quindi noi partiamo Con le nostre Grandi idee Per andare Alla conquista Dei nostri errori Dei nostri peccati Della nostra miseria E partiamo Per la guerra santa Con il nostro Cattivo carattere Poi Qualche buon proposito Da primo gennaio E un po' più tardi Ci si ritrova Nella stessa situazione Con delle vittorie Che non sono Durevoli Così Di fronte Alle sconfitte Ripetute Nella nostra vita cristiana Cerchiamo di trovare Delle soluzioni E Troviamo in generale Circa quattro soluzioni Che a me piacerebbe Esaminare La prima È la soluzione Che il popolo D'Israele Ha adottato Quando è entrato Nella terra promessa Guardate con me Questo testo Aprite le vostre bibbie In Giosuè Al capitolo 15 Gesuè Capitolo 15 Giosuè Capitolo 15 Al versetto 63 È detto Quanto ai Gebusei Che abitavano In Gerusalemme I figli di Giuda Non li poterono Scacciare Così I Gebusei Hanno abitato Con i figli di Giuda In Gerusalemme Fino al giorno D'oggi Altrimenti Detto Prima soluzione Lo faremo Insieme Non riusciamo A essere vittoriosi Per una volta Tanto peggio Faremo con Faremo insieme Aspetteremo Che passi E poi Ci si abitua A una specie Di coabitazione Colpevole Nella sconfitta Ma almeno Possiamo Salvaguardare L'esteriore La reputazione Salva È l'essenziale Una seconda Soluzione È un modo Come a dire Bisogna che io Stringa i denti Bisogna che io Conti su me stesso Come si deve Nel libro La via migliore Alla pagina 42 In francese Leggo questo Alcune persone Che professano Di servire Dio Contano esclusivamente Sulle loro forze Per obbedire Alla sua legge Per correggere I propri errori E assicurarsi La salvezza Il loro cuore Non è toccato Dal sentimento profondo Dell'amore Del salvatore Ma si sforzano Di adempiere I doveri Della Vita cristiana Come una condizione Da assolvere Per guadagnare Il cielo La frase seguente Ascoltatela bene Una tale religione Non vale Assolutamente Niente In altre parole Nella mia vita cristiana Vivo Qualcosa di Perfettamente Accettabile Compiendo i doveri Della vita cristiana Sono uno Di questi cristiani Non vincitori Che hanno trovato Una soluzione Per passare A fianco Del problema Ma Se assolvo Tutti i doveri Ancora una volta La reputazione E la facciata Sono salvaguardate È l'essenziale No? La terza soluzione Alla quale Si ricorre È una soluzione Per la quale Si può dire Ah è già un po' Meglio della precedente È contare Su se stessi E su Dio Allo stesso tempo È una collaborazione Ascoltate questo commento Alcune persone coscienziose Si affidano Parzialmente A Dio E parzialmente A se stesse E se non guardano a Dio Per essere protetti Dalla sua potenza Ma contano Di essere accettate Da Lui In considerazione Del fatto Che restano vigili Contro la tentazione E che compiono E che compiono Alcuni Doveri Nessuna vittoria Viene ricompensata Da una tale fede Aiutati Che il Cielo Ti aiuta Non c'è niente Di biblico In questo Se pensate Che ci sia Un testo biblico Cercherete a lungo Io conto In parte Su di Lui E in parte Su di me Collaboreremo Nessuna vittoria Viene ricompensata Da una fede così Perché è anche qui Una fede Che si realizza Nei doveri Della vita cristiana E ci si immagina Facilmente Che avendo compiuti I nostri doveri Abbiamo fatto Quello che si doveva Nella quarta Soluzione Alla quale Si ricorre Sovente C'è di più Che non ottenere La vittoria Si cambiano Le regole del gioco L'essenziale Non è Ottenere la vittoria L'essenziale È amare Amare Se si ama Va tutto bene A partire dal momento In cui si ama Non si ha più bisogno Di adempiere I comandamenti di Dio Ama E tutto va bene Ascoltate questo commento La santificazione Significa Amore perfetto Obedienza perfetta Conformità Piena E completa Alla volontà Di Dio Non si possono Cambiare Le regole Del gioco È Dio Che le ha date Capite? Ma alcuni Diranno Amare È sufficiente La trasformazione In tutti i casi Quella trasformazione Verrà quando arriverà La pioggia Dell'ultima stagione Dio farà Un colpo Di bacchetta magica Dunque Aspettiamo Con calma La pioggia Dell'ultima stagione E amate Fino ad allora Non c'è vittoria In nessuna di queste Soluzioni Perché Voi capite Questo consiste Nello stabilire La nostra giustizia In modo esteriore E le sue soluzioni Non comportano Alcuna vita Cristiana Vittoriosa Una vita Cristiana Appagante Una vita Cristiana Che ci radica Nell'assicurazione Della salvezza Nessuna di quelle Soluzioni Può farlo Voi capite? Non si è Buoni Semplicemente Non facendo Il male Non si è Buoni Semplicemente Non facendo Il male E se il male È tenuto A freno In noi Questo non fa Di noi Dei giusti Se il male È tenuto A freno In noi Ciò non Trasforma Il nostro Carattere Se avete Un cane Feroce Che vuole Mordere tutti E voi lo attaccate Alla sua catena Non morderà Nessuno Ma non Cambierà Voi potrete Liberare Quel cane Quando sarà Stato Addomesticato Addestrato E saprete Che non farà Del male A una mosca Allora potrete Lasciarlo Senza la sua catena Perché sarà Stato cambiato Quanti sono Tra di noi Quelli attaccati Alla loro catena Nella chiesa Il cui cuore Non è cambiato Eppure Gesù È stato Chiaro Con la gente Del suo tempo E penso Che sarà Chiaro Anche con noi Guardate Questo testo Girate la pagina Della vostra Bibbia Fino al Vangelo Di Matteo Al capitolo 23 Vangelo Secondo Matteo Capitolo 23 Versetto 25 Gesù Dice Questo Matteo 23 Versetto 25 Guai a voi Scribi E farisei Ipocriti Perché pulite L'esterno Della coppa E del piatto Mentre l'interno È pieno Di rapina E d'intemperanza Fariseo Cieco Pulisci Prima l'interno Della coppa E del piatto Affinché anche L'esterno Sia pulito Notate Non dice Che l'interno Del piatto È pieno Di adulterio Di banche Che sono state Rapinate Di cose così No 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 Dice semplicemente Rapine Vale a dire Che hai preso Cose che non sono Propriamente tue E d'intemperanza Ed è sufficiente Perché l'interno Della coppa Sia completamente Contaminato Fariseo Cieco Pulisci Prima l'interno Della coppa E del piatto Affinché anche L'esterno Sia pulito E nel Vangelo Secondo Matteo Al capitolo 5 Si trova questa frase Che conoscete Perciò Io vi dico Se la vostra giustizia Non supera Quella degli scrivi E dei farisei Voi non entrerete Affatto Nel regno Dei cieli Non è che avete L'impressione Di essere un cane Feroce alla catena Pensando che sia Sufficiente Esserci attaccati Detto Altrimenti Il problema Non è nella Prestazione esteriore Della nostra vita Cristiana Il problema Si trova Nella trasformazione Interiore È un problema Di cuore E lo si impara Già nell'antico testamento Con il profeta Geremia Che il cuore Dell'uomo È contorto E soprattutto Cattivo In altre parole Occorre cominciare Dall'interno La giustizia esteriore Non vale niente Può essere che essa Valga per la mia Reputazione Politicamente corretta Nella chiesa Ma Io apprendo Leggendo le scritture Che Dio guarda il cuore Dunque Ho un problema Di cuore E se voglio Risolvere Un problema Di cuore Voi sapete Come me Che serve Uno specialista Del cuore E non ne conosco Molti di specialisti Di quel cuore Solo Dio È lo specialista Del cuore Perché Il Signore Vorrebbe donarmi Una vittoria Completa Una vittoria Totale Vorrebbe Lasciare andare Tutti i cani feroci Sapendo che Trasformati Non faranno Del male Neppure A una musca E prendo L'esempio Del tabacco Voi potreste Aver smesso Di fumare Quando siete passati Nelle acque Del battesimo E a volte Sento delle persone Che dicono Sa pastore Non fumo più Da 25 anni Sottinteso Se potessi fumarmene Una buona Adesso Sarebbe fatto bene Queste persone Pensano di aver avuto La vittoria Sul tabacco Ma no Ma no In effetti Hanno semplicemente Avuto La volontà Di resistere Alla tentazione Ma colui Che non ha La forza La volontà Di resistere Cosa fa? Ci cade dentro Ma è allo stesso punto Il Signore Ha qualcosa Di molto più importante Per noi Egli vuole portarci Non soltanto A resistere Alla tentazione Ma ci vuole portare Ad avere il disgusto Per il peccato Vale a dire Essere vittoriosi Sul peccato Come lo è stato Gesù E La vera tentazione Di Gesù Non era sapere Se era caduto Nel peccato O no La vera tentazione Di Gesù Era di sapere Con la forza Di chi Egli Andava a confrontarsi Con il peccato Con la sua In quanto essere umano O con la potenza Che Dio gli forniva In altre parole Il cane È ancora attaccato Al guinzaglio E io dico Va tutto bene Ma il Signore Ha qualcosa Di molto più importante Per me Mi vuole portare Ad avere Il disgusto Del peccato Vale a dire Questa giustizia esteriore Che consiste Nel fare Il bene Ed essere giusto Perché Non faccio il male Non vale niente Quindi bisogna Cambiare il cuore Come lo facciamo? Beh come Come Bill E il missionario Non voglio Smettere di fumare A colpi di testi biblici Che hanno stordito La testa dell'altro E questo vale Del resto Per tutte le altre Debolezze Che possiamo avere No al contrario Bisogna che io Vedete ci ha dato la ricetta E noi la conosciamo Sta nel Vangelo di Giovanni Al capitolo 15 Guardate questo passaggio con me Vangelo di Giovanni Capitolo 15 Al versetto 5 Giovanni scrive questo Da parte di Gesù Che voi conoscete bene Io sono la vita Io sono la vita Voi siete i tralci Che dimora in me E io in lui Porta molto frutto Poiché Senza di me Non potete Far Nulla Se voi rileggete Quello che vi ho suggerito Di fare all'occasione In questo capitolo 15 Versetti da 1 a 11 Andrete a scoprire Che il termine dimorare Si trova 12 volte In questi 11 versetti Forse è di dimorare Che Gesù sta parlando qui Che ne pensate? Dimorare Abitare Gesù Abita In me È il tema Di questo paragrafo Dove il termine dimorare Si ritrova Ben più Che una volta Per versetto È il segreto Di Giovanni È il segreto Che ha trasformato L'apostolo Giovanni Quest'uomo violento Irritabile Ambizioso Eccetera In quell'uomo Trasformato Totalmente cambiato Che noi conosciamo Alla fine della sua vita Ricordate poco fa Abbiamo letto Quel testo Che diceva Che egli Aveva Accettato Gesù Che aveva Vegliato Che si teneva vicino a lui E non vi ho letto Giusto la frase seguente La frase seguente Di questa citazione Che dice così Una trasformazione Simile a quella Che possiamo vedere Nella vita di Giovanni Deriva Sempre Da una Stretta comunione Con il Cristo In altre parole Se vogliamo Avere Questa metamorfosi Nella nostra vita Bisognerà utilizzare Lo stesso Metodo Di Giovanni Una stretta Comunione Con il Cristo Nel libro Gesù Cristo Trovo questo paragrafo Tutta la vera obbedienza Procede Dal cuore Se lo vogliamo Gesù si identificherà Talmente con i nostri pensieri E le nostre aspirazioni Che renderà il nostro cuore Il nostro spirito Talmente conformi Alla sua volontà Tanto che obbedendogli Non faremo altro Che seguire i nostri stessi impulsi La volontà purificata E santificata Troverà la sua più grande gioia Nel servirlo Quando noi Conosceremo Dio Com'è possibile Conoscerlo La nostra vita Diventerà Un'obbedenza Costante Se apprezziamo Il carattere Del Cristo Se siamo In comunione Con Dio Il peccato Ci diventa Odioso Ecco Quello a cui Vuole arrivare Che il peccato Ci sia odioso Che ci disgusti Ecco a che punto La vittoria Va ben oltre Quello che a volte Supponiamo A questo punto Certi diranno Allora questa è una facile Soluzione Io non faccio niente Aspetto che il Signore Faccia tutto No 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 Quelli che dicono questo Sono quelli che non hanno Ancora provato Il combattimento Della fede Perché la Bibbia Ci parla Del combattimento Della fede L'apostolo Paolo Invita Il suo discepolo Timoteo Combatti Il combattimento Della fede È una Battaglia Ricordatevi Molto semplicemente Della storia Di Giosafat Giosafat Nel secondo Libro Delle cronache Si confronta Con un'armata Potente Nessuna possibilità Ma Dio Gli dice Ascolta Parti per la battaglia Ma con il coro Davanti E andate Avanti Cantando Vi sarebbe piaciuto Essere la prima linea Dei soprano Là davanti Con un esercito Armato Fino ai denti Di fronte a voi Avreste trovato Facile Cantare Quel giorno Il combattimento Della fede E Dio Gli dice Voi non combatterete In questo caso Mi voglio occupare Io di questo Il combattimento Della fede È una cosa Semplice Da capire È difficile Da fare Nel libro Conquistatori di pace Che abbiamo letto Poco prima Guardate questa frase In riferimento Al combattimento Della fede Coloro che desiderano Ottenere la santificazione Ah, quello di cui abbiamo Parlato Coloro che desiderano Ottenere la santificazione Devono prima Imparare Che cos'è Il sacrificio Di se stessi E voi mi dite Che è facile Mi ricorda Un testo Una parola Di Gesù Nel Vangelo Di Luca Al capitolo 9 Dove al versetto 23 Gesù dice Se qualcuno Vuol venire Dietro a me Rinneghi Di se stesso Prenda ogni giorno La sua croce E mi segua La croce Non è un ciondolo Sapete La croce È là che si muore Ed è di questo Che si tratta In questo testo Morire a se stessi Degli uomini peccatori Non possono diventare giusti Che avendo fede in Dio E mantenendo con lui Una relazione vitale Solo allora la pietà Eleva i pensieri E nobilita la vita Le forme esteriori Della religione Si accordano Con la purezza interiore Del cristiano Voi mi direte Ma pastore Sono 25 30 40 50 anni Che faccio il mio culto Di adorazione Tutte le mattine Sì lo so Ma perché lo fate? Per imparare Le dottrine Che vi hanno presentato Quando avete fatto Gli studi biblici? Fate la vostra devozione Tutte le mattine Perché è uno di quei doveri Che bisogna compiere Perché vi hanno detto Che è la cosa da fare? O perché siete sicuri Di sapere Quale sarà Il processo Lo scenario Alla fine Dei tempi Perché avete l'impressione Che ci si stia avvicinando A questo E volete essere sicuri Di avere la carta buona? Cosa? Se la nostra devozione Ha un altro scopo Che sviluppare Un contatto Con una persona E di sedersi Ogni mattina Con Gesù Non abbiamo ancora Realizzato Una comunione Con il Cristo Non gli Abbiamo dato Ancora il modo Di cambiare Il nostro cuore E di darci La vittoria E provate Provate Vedrete Voi vedrete Fino a che punto Il diavolo si scatenerà Per impedirvi di sedervi Ai piedi di Gesù Ogni giorno Ci saranno il telefono I bambini Ci sarà un appuntamento Ci saranno mille cose Che verranno fuori Per impedirvi Di sedervi Ai piedi di Gesù O forse avrete il tempo Di imparare una dottrina O qualche versetto A memoria Questo senza alcun dubbio Ma sedervi Ai piedi di Gesù Per comunicare con lui Per essere come Giovanni Impregnati Di questa ammirazione Per la sua bontà Per la sua magnificenza Per il suo carattere Per il suo amore Alla fine Questo sarà difficile Richiederà il combattimento Della fede Ed è un combattimento Difficile È il combattimento Di ogni giorno Ancora nel libro Conquistatori di pace Alla pagina 503 In francese Vi leggo questa frase Che ho volontariamente Saltato Nelle Citazioni fatte prima Questa frase ci dice La preghiera È il mezzo Istituito dal cielo Per ottenere il successo Nel conflitto Contro il peccato E per lo sviluppo Del carattere cristiano Ma parliamo Della preghiera Non della recitazione Si parla di quel momento In cui Parliamo a Dio Come a un amico E in cui Lui ci parla Dove gli parliamo Del nostro cuore Gli diciamo Ciò che stiamo vivendo Quello che ci aspettiamo Da lui Quello che vuole fare Con noi Quindi Al posto di essere Ricorsi Agli stratagemmi Per passare di lato Adattandoci alle vittorie Non riportate Per permetterci Di non essere Semplicemente Un cane alla catena Che continua A schiumare rabbia Ma un essere Trasformato Ci sono queste istruzioni Per l'uso Molto semplici Ma difficili Che consistono Nel sederci ai piedi Di Gesù Perché Lui ci trasformi Allora 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 Si compirà Questa promessa Che mi piacerebbe Lasciarvi a Ken Nel libro di Isaia Capitolo 59 Al versetto 19 Dove è detto Così si temerà Il nome dell'Eterno Dall'Ovest E la sua gloria Dall'Est Quando l'avversario Verrà come una fiumana Lo spirito dell'Eterno Alzerà contro di lui Una bandiera Amen